L'associazione Tutte l'ospedale San Biagio continua per tutto agosto la raccolta dei fondi? Assolutamente sì, noi saremo presenti con i soliti due banchetti per tutto il mese di agosto, tutti i sabati mattina al mercato e continueremo ad andare avanti con la raccolta dei fondi per il ricorso al tardi a favore del punto nascito. La gente è sempre generosa? Sì, nonostante comunque il periodo di agosto sia un pochettino di vuoto a domo, la gente continua a venire, si informa, dona. E avete anche ricevuto qualche obolo da parte di associazioni? Esatto, abbiamo ricevuto dei bonifici da parte di alcune associazioni, altre ci hanno già detto che ce ne faranno per venire qualcuno la settimana che viene quindi siamo soddisfatti di come sta andando la raccolta.